dozzarriamo e e ce n'aveva il papa un po' e piccolo lo potrebbe prendere la schedina e poi c'è una possibilità di rest senza spari non c'è la cesta c'è uno da me potremmo lasciarla da chi ragazzi sono morto ragazzi potete venire da me aiuto sei un po lontanuccio non ne lasciano in pochi che riesce a scappare 20 white a quel maledetto mi sfiderà la chi chiesto così di sua la vostra distanza ok e letteralmente mi sono già fatto il team un'altra c'è un po' di giro in un modo molto furbo io no se quella che stanno con la schifosa marigetta piccoli ma dai non ora ragazzi non potete capire come sono scappato no no aspetta che ti prendo la scheda ok ahahah ma bro lasciami in pace va tranquilla bro oh mi hanno l'avete lasciato andare Riel dove sei? ma dove sei tu? tu sei dall'altra parte usa la ciappe non c'ho, non c'era la jump no, intendo copro dov'è la jump? la vedo io io secondo me ci muoio no se le si ma non si è morta è dall'altra parte, peccato mi inseguono no dai, dai, madonna, dai, vieni a prendermi vieni a prendermi ma ma no, quel che lato vuoi, quelli lì no, aiuto sono dei ratti i poveri non ti fidare, non ti fidare beh, tanto, un'altra chance non si ti credono vogliono che prenda la mitra non spararli se li spari sicuramente tu c'è grande, voi siete dei grandi vuoi vedere che è arrivato fino alla fine della partita e vinciamo in sto modo no, no, dai tipo le short anche come sono gentili siete gentili no, no, voglio fare, devo scoppare papa, sto scappato... è bello eccoli eccoli bro guarda che c'è la safe prendili prendili accompagnali accompagnali vedi? dov'è l'altro però? però se non vengono provo ucciderli no vi resto qua vi resto? o lo resti? lo resto aspetta voglio far capire che e far capire che li dovete uccidere? no no io faccio capire che lui è il mio compagno no io non lo voglio dai prendilo 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 lo so vedendo dove sono ma sono pazzi questi no io non lo voglio prendilo che tra poco pure arriva la safe ma io non lo voglio siete troppo gentili e che se lo prendi e che se lo piglia e vabbè io non lo voglio pigliatelo tu lori pigliatelo tu adesso sono pigliati loro tutti insieme siamo un team da 5 non so perchè ma secondo me non finirà bene questa partita che ci segnalo? può essere? laggo io laggo sto laggando di brutto poi potrebbero segnalarci perchè è stato in mano vabbè che se ne prego intanto giocherò a brusse proprio anziché a fornite let's go bisogna sapere se hai mitagliette mitiche credo di si no 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 perché si è attaccato no 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 ma è la mitraglietta fra è la mitraglietta ragazzi se vi sparano sapete già cosa fare eh io ci muoio ho due di vita fra no 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 non posso se no ooooo le cure qua ci stanno era troppo si si mi salgono tutte facciamo tutti il trenino no la safe no ma no ma mo confondo tutto che sono quelli che team ma quelli no eh è vero io vi confondo però una alla vostra sinistra destra vuol dire una teamare ma dove? c'è gente che vuole teamare? è qui è qui vuole teamare? ma lui era già con noi lui era già con noi si 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 lui era già con noi io ho il regalo scudoni i scudoni ma allora se ho vedo dove sono in ogni momento ma mia ragazza che partita tira lo scudo tira lo scudo tira lo scudo no 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 al ponte al ponte no perchè c'è l'auto aimber non so se no la tempesta chiesto qua questo qua non faceva parte del team no lui no lui no è il team del team thomas nooo hanno ucciso uno dei team no no come e che è lui quello lì chi è? non lo so lo sto sparando quindi puoi ucciderlo Larry dove stai andando? appena un altro medicit vuole rinforzati? spuma chi è sto qua? quella sei ma non c'è ma siete gentilissimi siete gentilissimi raga veramente se ci fanno vincere così io no no prima dobbiamo pensare a sopravvivere queste cose le lascio qua cosa per caso è uno scuso che avevo preso prima? ehm no questo me l'ha regalato a me questo me l'hanno regalato allora sarà il mio perchè a me me l'hanno ucciso no 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 jonesy questo qua era quello che mi voleva uccidere ah però alla fine me l'ha regalato è stato così gentile da regalarmelo scusa voglio 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 guarda qua c'è qui è caduto ah ok il nostro credo è sull'albero è sull'albero spacca gli alberi no no mi devo assolutamente curare Uccidetelo quello che è sull'albero però sono 30 no questi qui sono troppo bravi Sono troppo gentili Madonna ragazzi Ok è morto Raga Tre team Se uccidete quelli siete in due Eh vabbè Se uccidete quelli siete in due Bra 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 Raga Sono stato Sono stato espulso Per teaming No E mi sa anche l'altro Mi sa anche l'ori qui Oh mio dio Chi è lui